Allora vado ad analizzare la partita della Virtus Lanciano contro il Padova e vedo che la squadra ha esercitato 621 passaggi contro i 460 ha fatto giocate utili 402 contro 267 ha mantenuto la supremazia territoriale per 11 minuti contro 7 e ha creato 7 occasioni contro 2 occasioni Se vado a vedere anche le ultime quattro partite questa squadra ha effettuato più passaggi di tutti più possesso pass e il doppio delle occasioni degli avversari Siccome nel leggere quest'articolo del tempo leggo magari questo 4-3-3 è meno spettacolare è meno dispendioso della scorsa stagione Allora io siccome credo che questo gruppo sta facendo qualcosa di straordinario e non so se riusciremo a continuare così però io voglio che venga dato merito alla squadra di quello che sta facendo Questa squadra in questo momento ha delle occasioni create 6 contro le 3 dello scorso anno a gara I tiri siamo a 15.5 contro gli 11 di media sto parlando Allora siccome io non ho la buccola in naso ma principalmente voglio che questo momento siccome questi ragazzi si meritano qualcosa è un riconoscimento anche dei risultati ma principalmente del calcio che stanno sviluppando loro, non io se in questo momento non viene nemmeno reso merito di quello che stanno facendo questo mi dispiace perché non lo comprendo non lo capisco